Siamo alla seconda parte di questa seconda edizione della nostra rassegna stampa. Stamane ci siamo subito occupati ovviamente della crisi meteo, possiamo così definirla, della situazione in tutta la nostra regione, edizione che potrete trovare tra poco sul nostro sito trgmedia.it. In questa seconda edizione abbiamo dato un'occhiata ai quotidiani. Tra poco vedremo anche il meteo e vedremo qualche altra immagine, ma intanto parliamo di sport. Buran Breda, qui abbiamo un'immagine emblematica, eccola qua, che ci è arrivata da pochi istanti. Qui siamo a Gubbio, nei pressi di Viatti Fernate, guardate questo enorme albero caduto sopra un'auto. Per fortuna non c'era nessuno dentro perché le conseguenze sarebbero state davvero drammatiche. Adesso probabilmente ci sarà da riparare l'auto, ma guardate che fusto è stato letteralmente sradicato dal vento. Il vento è uno dei grandi nemici di queste ore insieme al ghiaccio. Lo è perché, come dicevamo prima, altera anche la stessa visibilità a terra di quella che è l'effettiva presenza della coltre nevosa per chi viaggia, ma anche per gli stessi pedoni. Stamani abbiamo visto alcune immagini proprio del centro storico Gubino di questa mattina. Continua ad esserci un enorme lastra di ghiaccio anche in piazza 40 Martiri, per cui se non strettamente necessario l'invito a chi ci segue da casa, vale per Gubbio, ma anche per tutte le altre città colpite dalla perturbazione, è di non mettersi in strada, se non appunto indispensabile, perché altrimenti si rischia di creare altri problemi a se stessi e anche alle forze dell'ordine e a tutti quei soggetti chiamati a garantire la migliore percorribilità lungo le strade per chi le strade deve transitarle per forza, per causa di lavoro. Vista anche questa immagine che abbiamo estrapolato da poco dalla rete, andiamo a sfogliare i quotidiani per lo sport. In questa seconda parte cominciamo dal Corriere con il Perugia, Fresco Relius è dall'impresa di Frosinone di sabato, spazza via tutte le big, Buran Breda viene così denominato, il tecnico del Grifo supera Palermo e Frosinone, ora non vuol fare come giunti, caduto con le piccole. Albertone tuttofare, parliamo di Cerri, uno dei autori del gol del Perugia, grande protagonista di questo momento dei Grifoni, Cerri, anima del Grifo, gol, corse e assist. Dal passaggio vincente per Falco con l'Ascoli il centroavanti si è caricato la squadra sulle spalle, con Di Carmine forma una coppia che fa la differenza, negli ultimi dieci almeno uno dei due ha lasciato il segno. L'altra faccia è la trasferta a Frosinate, anche l'aggressione subita da alcuni ultraperugini da parte di colleghi, per così dire colleghi baresi, in un autogrill. Il Corriere mette in primo piano anche la palla a volo con la Sir Perugia, stavolta sconfitta ma senza grosse conseguenze, visto che già prima matematica in regular season a Modena e 13, 13 le sconfitte con i gialloblu che sono la bestia nera della Sir, vinsero anche all'andata al Pallevangelisti l'ultima grande sconfitta per la squadra di Bernardi e vinsero, se ricorderete, anche nel match pre-campionato a Gubbio il spirito di squadra, forse una di quelle gare che fece riflettere un po' Bernardi per alcuni accorgimenti che poi si sono rivelati molto azzeccati. Chi sta messa peggio di tutte è sicuramente la Ternana, Fere serve un'impresa alla Liberani per ricordare quello che fece la remontata dello scorso anno del tecnico Rosso Verde, nove punti di distanza dalla salvezza, quasi disperata la condizione, sportivamente parlando, la situazione delle Fere. Occhio Gubbio perché il Fano è vivo, Gubbio che ha riposato in questo weekend ma ha visto perdere sia il Teramo che la Sant'Arcangelo, stasera gioca in Ravenna a Pordenone ma il Fano ha vinto, ha vinto fuori casa a Renate, torna in corsa addirittura per la salvezza diretta perché ha un solo punto dal Terzetto formato da Teramo, Sant'Arcangelo e Ravenna e a questo punto è a cinque lunghezze dal Gubbio che sarà la prossima avversaria degli Adriatici. Sabato prossimo un derby sul terreno di gioco del Fano che si preannuncia molto delicato che la squadra di Pagliari non deve assolutamente, almeno non deve perdere. Questo per il Corriere che poi ritroveremo, andiamo a vedere la Nazione Grifo ora sotto con le pericolanti terribili, domani il Brescia nel turno infrasettimanale, sabato la Provercelli, formazione di medio-bassa classifica ma in grande ripresa che ricordiamoci all'andata dettero due grosse scopole ai Grifoni e costarono la panchina a Giunti. Ternana, Venezia per non affondare, nuovo blitz per Patron Bandecchi che ha incontrato i giocatori dello staff tecnico ma ormai sembra davvero, come detto, un'impresa disperata. Il Gubbio riprende gli allenamenti in vista del match di sabato e poi andiamo con, lasciamo anche la Nazione, andiamo con il messaggero per chiudere la panoramica sulle squadre professionistiche. Grifo un passo da grande, la squadra di Breda mostra di essere cinica ed equilibrata, dobbiamo sforzarci di trovare la qualità, neanche il tempo di godersi il successo che si torna in campo, domani al Curi la sfida col Brescia, obiettivo è tenere questo ritmo meno belli ma capaci di difendersi e colpire al momento giusto il commento di Claudio Cagnazzo, ma credo che nessun tifoso si lamenti per aver visto un Perugia meno bello ma assolutamente travolgente a Frosinone. Fere, addio svincolati. Il presidente Ranucci ha incontrato i giocatori allenatori durante gli elementi di ieri insieme a Patron Bandecchi, abbiamo fatto una valutazione secondo mister Di Cagno, in giro non ci sono giocatori che possano fare la differenza, con questi la Ternana dovrà cercare di salvarsi. La Sirn si ferma a Modena, i Block Davids sconfitti 3-2 al Palapanini, è la stagione dei record ma l'Azimut resta un tabù. Zayzev dice è stata una parola bellissima con alti e bassi ma adesso credo che sia normale, come normale la sconfitta della Bartocini con la capolista Mondovì 3-0. Tornando invece al calcio sempre con il messaggero, apriamo il capitolo di Lettanti, Foligno ovviamente si guarda alla piazza, si parte dalla promozione avanti tutto, Falchetti che liquidano il Montefranco con due gol nel secondo tempo, ora la testa al Big Match di domenica col Ducato a meno 12, praticamente il match point del campionato. In Serie D il Trestina spera, poi cede il passo, apre le marcature con Villanova, ma poi viene battuto da Limolese 2-1, mentre tra Pianese e Villa Biagio vince Buran, troppa neve ai piedi della Miata, non si gioca. Eccellenza, Voluntas stoppata da Sisi, Angelana sull'1-1, ha su base invece continuo all'inseguimento del Bastia, batte la Narnese decisivo, Ricciolini in apertura di ripresa per la squadra di Bonura che ha due passi dalla vetta, mentre neanche Buran ferma il Bastia che batte 2-0 in casa il Massa Martana. Chiudiamo col basket, Val di Ceppo giù, troppo Teramo, Perugini ancora K.O., un buon inizio della squadra di Ponte San Giovanni, poi gli avversari si danno la fuga 80-60. E sulla staffetta soddisfazioni per le poliste ternane che vincono il titolo nazionale, sono Susanna Faustini, Roberta Pia, Stefania Rulli, Alessandra Inghess. Questo per lo sport dal messaggero, sport che andiamo a ritrovare sul Corriere dell'Umbria, col Trestina un cappò che brucia, padroni di casa in vantaggio con un gol capolavoro di Villanova, poi però tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa ritorna Limolese, che è tra l'altro l'immediata inseguitrice della capolista Rimini. Il maltempo blocca a Cocciari, rinviata Pianese-Villa Biagio, in eccellenza Bastia-Glaciale, Massa KO, Coppa Vendicata. Grilli dice stiamo facendo un'impresa, ma chi ferma la Subasio che ha l'inseguimento del Bastia per ora non lo fa la Narnese, 1-0 firmato Ricciolini. Pari a meno 7 con la Voluntas, l'Angelana si sveglia tardi, mentre Ventinella tabù per il Cannara, la squadra di Lisarelli ferma il Rosso-Blu. Sprofondo Petrignano, la Trasimene viva, vince 2-1. Siamo alla promozione, il Corciano si inchina all'Ellera, al Fioroni, mentre sì Diavolo, ancora Carnevali, Casa del Diavolo in vetta alla classifica dopo la vittoria. Sul Montone, mentre la Ponte Vecchio sbatte sui legni, rabbia Madonna del Latte contro l'arbitraggio. Siamo al Foligno, anche sul Corriere, ventesimo sigillo dei Falchetti, vittoria numero 20, mentre Taddei fa i numeri, ma non i miracoli, la Ducato passa a San Venanzo. Lasciamo il calcio, andiamo al calcio a 5, dove Foligno si prepara per la festa per la B, Monteleone colpo da maestro, i ragazzi di Garilli stendono il Gubbio Burano, continua a vincere la Visgubbio che abbiamo visto in Telecronaca ieri, Telecronaca andrà in replica domani sera alle 22.30 sul Canale 111. In A2, Orvieta tutto gas, secco 3 a 0 al Baronissi, mentre per l'atletica Atlon e Bastia quarta ai tricolori master, mentre Faloci il Trestinese d'Argento ai campionati assoluti di lancio del disco. Winner Foligno e Cus Perugia nella cross si prendono il titolo Umbro, tutto questo in attesa della grande festa nazionale del cross a inizio marzo a Gubbio, e poi il basket sicoma disco rosso a Teramo, mentre Serie C Silver, una schiacciata nel riscaldamento, manda in frantumi un tabellone finale rinviata clamoroso a Perugia. Fuori programma decisamente quello che è accaduto sul parquet del Palevangelisti. Chiudiamo con la Nazione, ripartendo anche qui dalla Serie D e dal Trestina, che sebbene in vantaggio cede al Limonese e ovviamente viene risucchiata nella lotta a salvezza. Angelana Spoleto è un pari che scontenta un po' tutti, mentre chi sorride è il Ventinella di Lisarelli, un gol a testa col Cannara, e soprattutto la Subasio di Bonura che batte la Narnese e continua l'inseguimento del Bastia. Chiudiamo dando un'occhiata agli altri sport, il basket ovviamente per la finale Perugia-Todi rinviata a causa rottura del tabellone, mentre in Serie D via la fase a orologio o a incrocio, dopo che Spello, Corsaro a Gubbio, è arrivato primo in classifica di Serie D. Taibre e Camaro per la Sir Perugia, poi tutto il quadro della pallavolo, per il podismo, passere lini davanti a tutti, sempre alla corsa campestre Perugina, e poi tanti spunti per pallanuoto, tennis ciclismo e tennis tavolo. È davvero tutto anche per questa edizione dello sport, ma noi abbiamo la sigla col meteo, daremo un'occhiata alle previsioni per oggi, che abbiamo peraltro sentito in viva voce nella prima edizione di questa rassegna alle 7.30 con Riccardo Rossi, ma ricapitoliamo per chi si fosse posto in ascolto solo successivamente. Allora sigla e poi vediamo il meteo. Siamo al meteo per questo lunedì innevato, di cui abbiamo abbondantemente parlato nella prima parte della nostra rassegna, ma diamo un'occhiata alla consueta slide, le previsioni oggi sono piuttosto scontate, c'è neve come vedete che si alternerà a qualche leggera riapertura, ma come vediamo le minime parlano da sole, tra i meno 4 e i meno 7, le massime non supereranno lo zero. Giornata fredda variabile, soprattutto con grande vento proveniente dai quadranti orientali, che acuirà la sensazione di freddo. Nevicate sparse intermittenti su tutte le principali località regionali, che risulteranno però di debole intensità. Maggiori precipitazioni in Appennino e sull'Eugubino Gualdese per il fenomeno dello Stau. Le temperature molto rigide faranno sì che le eventuali precipitazioni produrranno accumuli nevosi, che potrebbero essere anche ingenti, nella zona appenninica. Le temperature minime tra i meno 4 e i meno 7, le massime non supereranno lo zero, ma il vento gelido farà sì che la temperatura percepita in alcune località possa essere anche al di sotto, dei 10-13 gradi sotto lo zero. Questo fin da oggi, ma abbiamo sentito dal nostro Riccardo Rossi, che domani sarà la giornata decisamente più gelida. Con questo vi lasciamo l'appuntamento con l'informazione alle 19.30 con i nostri TG. Prima ancora avremo di nuovo il meteo, proprio con Riccardo Rossi, che ci parlerà dei prossimi giorni. E dunque a stasera per l'informazione, ma continuate a restare con noi attraverso trgmedia.it. Buona giornata. Grazie a tutti i nostri TG.